Cari amici, stiamo per iniziare un nuovo anno ed è senz'altro motivo di gioia per me inviarvi un carissimo augurio. Le attese, le curiosità e quanti inutili ricorsi ai segni scrutare l'oroscopo, in verità è necessario soprattutto alimentare la speranza che l'anno che si apre possa essere per tutti noi un anno di grazia, un anno di gioia, un anno che ci consente di recuperare quella serenità che è per tutti noi indispensabile da trasferire nella nostra quotidianità. Quest'anno che si apre possa essere per tutti noi anche l'occasione per un rinnovato impegno per costruire la pace, di cui il nostro cuore ne ha tanto bisogno. Questa pace che non è solo un impegno delle grandi superpotenze, ma è il risultato di una laboriosità che riusciamo a trasferire nella nostra quotidianità. Pace nelle famiglie, pace nel mondo del lavoro, pace nella scuola, pace nella politica, riconciliazione tra i cuori. Auguri e buon anno!